Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Sulla 67 Tosco Romagnola, code per traffico intenso tra Badea Ripoli e Pontassieve tra i chilometri 88 e 100. Riduzione di carreggiata per lavori sul raccordo Siena-Firenze nel tratto tra Poggi Bonsi e Colle di Valdessa Sud in direzione Firenze tra i chilometri 17, 900 e 19, 400. Muoversi in Toscana Info, servizio e collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!